Ciao, sono Sergio Valente, mi sono laureato il 17 ottobre nella facoltà di giurisprudenza in diritto economico e diritto di impresa con la votazione di 108. Adesso sto svolgendo la pratica legale a Baresia in uno studio, grazie anche all'aiuto che mi ha dato l'università al placement. Sei soddisfatto del tuo lavoro attuale? Certo, sono soddisfatto rispiecchio quelli che sono i miei interessi e anche le mie abilità. Com'è stato l'inserimento? Molto veloce, dopo già una settimana ho già trovato il posto per svolgere la pratica. L'esperienza Luke, cosa è stata determinante rispetto a quello che è il tuo lavoro attuale? Sicuramente mi ha aiutato, mi ha dato le basi per poter intraprendere quello che adesso faccio con passione. Grazie.